Milano in preparazione a Cuneo, intanto ti chiedo come è andata la prima settimana, come vi state trovando anche in questa struttura, in questa città in generale? Ma guarda, molto bene, nel senso che siamo contenti di essere qui a Cuneo, struttura fantastica, in hotel ci troviamo benissimo e c'è anche un po' più di freschino che in questo periodo dovendo lavorare così tanto fa bene, siamo riusciti a scappare un po' dal caldo di Milano. Ecco, insomma, è periodo di preparazione, ancora lontano l'inizio della stagione, si fatica soprattutto con la prospettiva di arrivare pronti quando sarà il momento? Certo, siamo all'inizio e abbiamo iniziato qui a Cuneo, in questo meraviglioso palazzetto, i nostri primi allenamenti di fatica, però siamo tutti molto felici, abbiamo lo spirito giusto e vedremo, speriamo di poter iniziare veramente la stagione a settembre, che arrivi un protocollo che ci permetta di riprendere in tutta sicurezza il nostro meraviglioso sport. Ecco, anche perché non è stato un periodo facile per nessuno, voi insomma, come tutti gli sportivi avete faticato a stare lontani da quello che è la vostra passione oltre che il vostro lavoro, come hai vissuto tu questo periodo? Ma sai, è stato difficile più che altro perché quando devi stare lontano dal tuo sport per cause naturali, diciamo, anche perché la salute ovviamente viene prima di tutto, è frustrante, frustrante perché non sai quando si potrà riprendere, se si potrà riprendere a breve, quindi sei un po' molto anzi preoccupato. Adesso finalmente vediamo la possibilità di una ripresa, quindi anche questo diciamo che ci dà più spirito e più forza del normale. Da Cuneo per arrivare poi a una stagione, quella di Milano, che sarà per quali obiettivi, come vedi in generale, il campionato con tante incognite e Milano che ruolo potrà giocare? Ma il campionato sarà di altissimo livello perché comunque nonostante i problemi derivati dal Covid, le squadre hanno fatto tutte degli ottimi roster e non so che ruolo potrà giocare Milano, siamo una squadra giovane, siamo una squadra che ha cambiato tanto. Sono molto fiducioso, nel senso che per il momento il gruppo sta lavorando molto bene e aspetteremo chi deve ancora arrivare, però penso che potremo toglierci anche quest'anno le nostre gran belle soddisfazioni. Grazie.